L'autore del momentaneo vantaggio Lecchieti, benvenuto Don Sallora, eravate riusciti a sbloccarla con un tuo gran gol, lo possiamo dire. Tu hai visto la palla uscire dall'area, ci hai provato, hai fatto centro. Sì, è importante perché è da un po' che ho iniziato la partita con la squadra, sto facendo allenamento, siamo in gruppi sani, stiamo facendo il percorso, quindi oggi era un momento giusto. Per te è la prima volta dal primo minuto, quindi vuol dire che stai crescendo anche dal punto di vista fisico? Sì, sto crescendo perché mi ricordo il primo giorno che sono venuto a Chieti, il primo allenamento lo vedevo che ero un po' indietro, però adesso piano piano perché da quattro partite sono entrato, quindi oggi il primo minuto non è la faccia, però fisicamente sto riprendendo, quindi stiamo facendo un percorso per bene, quindi quando stiamo bene tutti lo vedrai. Senti, mi dici com'è andata questa partita, un 1-1 che vi soddisfa? No, non mi soddisfa, perché è quello che sto dicendo, perché la prima partita che ho visto in casa non arriviamo pure anche in porta, era difficile, però vedendo partita dopo partita stiamo crescendo piano piano, quindi so che stiamo facendo un percorso per bene, quindi dobbiamo continuare così e credere in fondo. Quindi la crescita oltre la tua personale la vedi anche nella squadra, nel gioco e anche nelle occasioni create? Sì, per quello che sto dicendo, perché la prima partita facciamo fatica pure ad arrivare in porta, la prima partita in casa, quindi adesso con le partite che facevamo, con il gioco, come creiamo per gol, per fare gol, stiamo crescendo bene. Senti, come ti spieghi questo rendimento proprio dal punto di vista dei punti della squadra? Fuori casa, tre vittorie e un pareggio quello di questa sera, in casa invece avete raccolto davvero poco, soprattutto nel doppio turno interno, due punti, due pareggi, poi c'è stato addirittura anche una sconfitta e una sola vittoria. Quello che sto dicendo, perché per quello che ho saputo hanno iniziato dopo la preparazione, quindi anche questo aspetto qua ti incide, quindi stiamo crescendo anche in fretta, quindi quando cresciamo facciamo di tutto. Adesso si vede anche sul gioco, perché oggi anche l'avversario ha fatto una partita, una partitona, quindi piano piano arriviamo al nostro obiettivo e poi quando siamo bene tutti vedi che la squadra va senza fermarsi. Ecco, l'ultima sul pubblico, perché in una serata anche piovosa, lontani dall'Abruzzo, 450 vi hanno sostenuto in un giorno feriale. Sì, perché loro sono il nostro sostegno, perché in casa ti fanno vedere subito, anche quando tu cammini sulla strada, vengo, dai, dai, siamo sempre con voi, anche con le sconfitte, quindi questi qua ci dà anche un motivo, che vuoi vedere oggi anche sotto la pioggia hanno cantato per 90 minuti per noi, quindi sono loro il nostro sostegno. Domenica sarà in campo dal primo minuto, anche domenica? Questo vuoi chiedermi se mi metto a disposizione. Tu però sei pronto? Sì, io sono pronto, quindi mi metto a disposizione per la squadra. L'ultimissimo è davvero, tu hai calcato campi importanti in Serie A, con squadre importanti, anche il Chieto è una squadra importante, però siamo in Serie D. Quindi, voglio dire, che differenza hai trovato, come ti ci stai trovando? Io sto trovando bene, solo che anche in Serie D devo trovare la squadra per bene, i ragazzi sani. Quando sono venuto mi hanno accorto subito, quindi è una piazza importante con i tifosi meravigliosi. Abbiamo un allenatore che lui è come un giocatore, che non ti fa sentire come un allenatore, parliamo anche su di tutto, quindi siamo una famiglia, mi hanno accorto bene, i ragazzi sani, quindi c'è solo da crescere qua.